Scusi eh, scusi. Sì, mi dici. Siamo mica dove è via di pallone. Ma guardi, via di pallone, via di pallone, via di pallone, in questo momento sono il pallone, sono il pallone che mi viene in mente, ma poi via di pallone, se si può giocare a pallone, guardi se vi vecchi il pallone ve lo puo, te lo puo, te lo piglio e te lo puo, se mi fai il pallone sui fiori mi sfavo, mi sfavo. Ma no, ma io volevo giocare a pallone, io volevo andare. Lei non fa il pallone gonfiato, non fa, guardi mi ha fatto due palle, mi ha fatto due palle, non lo so, non ce n'è via di pallone. Mi hanno detto che qui in zona c'è un appuntamento di lavoro. E le ho detto una cazzata, mi hanno detto una cazzata, un appuntamento di lavoro è la persona di cuore, tu diceva che non c'è via di pallone, me la ha presa un'azzata. Ma, beh, doveva essere qui, via di pallone, io, via di pallone. Lei è andata con il pallone, ve lo dico io, te lo dico io, è andata con il pallone, non ce n'è via di pallone. Lei deve andare nella rotonda, deve fare il giro, deve fare il giro, la rotonda, deve fare il giro, deve girare la rotonda. La rotonda per l'acqua? La rotonda, quando scatti il verde, passa, e aspetta il verde, perché tu puoi passare qui il giusto, se ci sia scatti il verde, tu fai la rotonda. Ma ha mandato il pallone a vero, vai? Lei, lei, questo ce ne è sorta di passare le palle, sorta di passare, sorta da fare, se ne vavi, se ne vavi, se ne vavi, se ne vavi. Mi scusi, ma lei, ma lei...